Tele Zang. Tra le notizie di oggi, tra le notizie più importanti di oggi, c'è la Cassazione che ha confermato 16 anni di condanna per il comandante Schettino, con il quale il sottoscritto ha condiviso per anni la residenza a Meta, piccolo comune vicino a Sorrento. Ma adesso, al di là di queste coincidenze e al di là di questa condanna, rimane la perplessità per il fatto che il colpevole sia unico e che ce ne sia uno solo per la vicenda della Costa Concordia. E a questo si aggiunge una domanda, ma fino a oggi ci sono state altre navi? Ci sono navi oggi che si avvicinano alle coste per un saluto, infischiandosene dei rischi? Ma qui a Tele Zang riconosciamo che è venerdì sera, quindi non ci aspettiamo una risposta, non vogliamo neanche darla, e non vogliamo chiudere in maniera così cupa questo palinsesto del venerdì sera. Quindi io direi che mettiamo un po' di musica. Grazie a tutti.